Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi come potete vedere, sto giocando a Doom 2016, spero vi piaccia. Voglio almeno 6 like per il prossimo episodio, vabbè, ciancio alle vamba e iniziamo. Bene, vi schippo un po' il caricamento, che è lungo. Essi sono furia, brutali, senza pietà. Ma tu, tu sarai peggio. Falli a pezzi, finché non sarà finita. Vabbè, vabbè, vabbè. Noi dobbiamo contenere. Vabbè, vabbè. 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 Grazie a tutti. 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 Riproviamo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 riproviamo. a tutti. 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 a tutti.